...preferenze al riguardo, agli artisti che devono salire... ...poi proprio se noi facciamo anche un sondaggio... ...una festa richiesta questa... ...una base come le teli... ...tura io volevo chiamare subito un amico, volevo ricordare... ...voi sapete che questa manifestazione in realtà è una manifestazione come... ...noi ricordiamo sempre grandi successi del passato soprattutto... ...questa sera abbiamo anche artisti contemporanei comunque... ...quindi ci stiamo un po' allargando... ...però devo iniziare ricordando un mio amico... ...scomparso, però amatissimo da tutti noi... ...e che era il grande Rocky Roberts, ve lo ricordate Rocky Roberts? ...è un amico che è scomparso qualche anno fa... ...questa sera ho voluto invitare su questo palco il figlio di Rocky Roberts... ...che è Randy Roberts con Stasera mi butto, è lui! ...Eccola! Ragazzi visto che ho un tributo questa sera vi prego di cantare perché deve arrivare fino in cielo eh... ...mi raccomando eh, tanto la sapete tutti quanti... ...prego maestro! Aspetta prima faccio partire la base... ...Eccola, eccola! ...e che è lei da dare tutti i miei nomi... ...e io credevo invece che... ...ho deciso che mi metterò... ...e qualche cosa combinerò... Questa volta noi ci sono sempre a tutti, adesso tu capi Stasera mi busto, mi busto con te E faccio di tutto, e faccio di tutto per stare con te Buona, buona, mi piace Se per caso tu non credi che invece sì, invece sì Nel momento che mi vedi qui, mi sembra che ora invece sì Ho deciso che mi punterò, ma devi fare qualcosa anche tu Questa volta non ci sono se io non canto, adesso tocca a te Stasera mi busto, mi busto con te E faccio di tutto, e faccio di tutto per stare con te Stasera mi busto, mi busto con te E faccio di tutto, e faccio di tutto per stare con te Adesso tocca a te Adesso tocca a te Adesso tocca a te Bene? Ma che onore! Venite, dove siete? Che onore! Vediamo se ci sono, eccoli! Eccoli, eccoli! Eccoli! Ciao ragazzi! Ciao, un piacere! Venite, la mia tempo davanti! Ciao, un piacere! Ciao ragazzi! Valerio, vieni qua! Vieni qua! Forse è meglio che mi metto! Grazie! Li avete visti in televisione tante volte Li rivedrete anche quest'anno Ti lascio una canzone Come va? Bene, come sei elegante! Oh, grazie! Ma guarda che sei tu più elegante di me Senti, dimmi Cosa stai facendo in questo periodo? Eh, ho fatto molti concerti Poi devo fare anche il palletto di Antonella Glergi Anche il palletto di Antonella Glergi E voi? Eh... E' un po' più riservato lui? Da tante parti, sì Anche voi? Anche tu? Sì, pure io Pure tu? E allora? Ma scuola, le fidanzatine ce le hanno? Le fidanzatine le avete? Io sì! Ah! E voi? C'è da un anno che sono fidanzata Ma quanti anni ha la tua fidanzata? Eh, nove e mezzo Nove e mezzo, bene! Beh, allora Trennini Con Randy Roberts Sono tremendo! Forza ragazzi, eh! Con tutte le ragazze Sono tremendo Le lasci tanto, le lasci tanto l'oglio e il povero il petto Nessuno mi resiste Ma mi abbrardo Con un'arma come te Non mi abbrardo Con un'arma come te Non mi abbrardo Ma mi abbrardo Il mio abbrardo Ma mi abbrardo Sono deciso più che mai, ma non esiste di poter, non mi voglio farmi cercare, non mi sentire, ma non mi sentire. Sono tutte le ragazze, sono un caratto, però sono un po' lunga, ma poi è un pezzo, ma non mi sentire, ma non mi sentire, non mi sentire, non mi sentire. Sono tutta l'organizzazione, sono un po' lunga, ma poi è un percre, non mi sentire, ma poi sono un po' lunga, come te. Con tutte le ragazze sono tremendo 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 Grazie!